Poi Mangone e qui accade l'imponderabile, sbaglia Calori, Ronaldo si avventa su questo retropassaggio che è un autentico regalo, fa fuori il portiere, palo, ancora Ronaldo e palla in rete per il pareggio. Ronaldo carica il Meazza Nerazzurro, 70.000 spettatori oggi, Calori, voleva dare più forza a questo retropassaggio. Guardate Ronaldo, fa fuori Castellazzi e bravo e fortunato perché dopo il palo la palla viene smorsata da Petruzzi. Passano meno di 4 minuti, Emre, ci sarebbe la punizione ma Ronaldo è un falco su questa palla, anche un dolore al momento dell'esultanza, via la maglia per il tripudio Nerazzurro, arrivano tutti dalla panchina anche a sommergere nel loro abbraccio Ronaldo. Castellazzi dice c'è stata una deviazione e in effetti si vede, sulla palla arrivano Calori e Petruzzi, niente da fare per Castellazzi.